Continuano i nostri incontri con Giovanni Matera, noto imprenditore, lui è titolare della Matera Arredamenti, è un imprenditore fattosi da sé, un self-made man potremmo dire, ma è soprattutto un esperto di marketing, autore di numerose pubblicazioni e ha dato vita a tantissimi corsi di formazione. Sono tanti, come detto, gli spunti tratti dalle sue pubblicazioni, dai suoi incontri, ma quello che vogliamo affrontare oggi è il commento ad un'espressione forte e la nostra vita può cambiare solo se cambiamo il nostro modo di pensare. Quindi una necessità di fare autocritica, di sederci per un momentino e dire, ma anziché imputare la colpa a tutto e a tutti, alla sorte, al destino, alla sfortuna, pensiamo anche a quello che noi facciamo e noi scegliamo. Noi siamo dove siamo e quello che siamo come risultato del nostro pensiero. Non possiamo controllare la politica, le persone, l'economia, ma possiamo controllare il nostro pensiero. Dunque una analisi introspettiva che poi chiaramente si proietta all'esterno e si materializza in quelle che sono le scelte. Tutto parte da noi, dal nostro pensiero, dalla nostra forma. Nostro modo di pensare. Intanto devo sottolineare un fatto che non esiste l'uomo fatto da sé. Esiste sempre un uomo che ha saputo gestire dei propri collaboratori, insieme ai propri collaboratori è potuto crescere. È un concetto molto bello questo qua, perché far passare l'idea che una persona si è fatta da sé, anche perché è impossibile che una persona… Quindi cancelliamo l'idea dell'uomo solo al comando per capirci. Esatto, esatto. Non esiste quell'idea. Esiste un'idea dove… L'equip. Il gruppo. Una bella definizione dei leader di successo è quella. Diciamo, bravo sei riuscito a fare tutto questo. No, non è stato merito mio e dei miei collaboratori, io mi sono limitato a gestirli. Allora là stiamo di fronte a un leader. E in quel caso stiamo di fronte a un leader. Che è un altro argomento. Che è un altro argomento ancora. Ma andiamo appunto alla necessità di cambiare il nostro modo di pensare. Ritornando al nostro modo di pensare, guardate, quello che noi siamo in questo momento è il frutto delle nostre azioni che abbiamo fatto fino a un secondo fa. Le azioni derivano dalle idee. È evidente che se vogliamo migliorare il nostro stato quotidiano, dobbiamo lavorare sulle idee. Ecco perché non possiamo controllare la politica, non possiamo controllare i politici, non possiamo controllare le situazioni, l'economia, anche perché siamo gestiti anche al di fuori. Poi qua andiamo su un altro discorso. Ma possiamo però gestire il nostro modo di pensare. E io dico sempre, c'è una bella frase che dico sempre, il successo o l'insuccesso di un'azienda o di una persona sta nel tuo modo di pensare. Ma questo non è nuovo questo concetto. I nostri nonni lo dicevano in un modo diverso. Quando sentivano parlare un ragazzo, dal suo modo di parlare, dicevano ma dove andrà quel ragazzo con quel modo di ragionare? Loro erano capaci di capire se quella persona doveva avere successo o il successo dal suo modo di ragionare. Quindi per concludere, siamo noi gli artefici del nostro destino. Un'altra bella frase. Una frase latina diceva, quisque faber fortune sue, ognuno è autore, proprio fabbro del suo destino. Artefici del proprio destino. Perché di fronte a una problematica noi abbiamo due modi, due possibilità di scegliere. Dare la colpa agli altri o dare la colpa a noi stessi. Se diamo la colpa agli altri non andremo a ritrovare la conoscenza, a trovare la conoscenza per migliorarci. Se invece io mi chiedo, ogni volta, anche quando penso di avere ragione al 100%, cosa avrei dovuto fare, cosa sto facendo e cosa posso fare in futuro per migliorare, vado a ricercare la conoscenza e quindi divento sempre più bravo ogni giorno.